ok ci siamo sta qui e sta crepando dai Lara ok piano 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 porca troia piano ok bravo ok ok esatto dobbiamo trovare un kit per il tuo fianco perchè stando da tempo trafazione al tuo corpo uh che figo ok ok ma che cosa ci dobbiamo arrampicare qua oddio sembra che sta per precipitare da un momento all'altro si infatti ce l'abbiamo fatta siamo spappolati come imbecilli perchè non ho saltato no perchè stavo pensando aspetta posso farcela mi vanno no oh oddio ah ok dai dai la retina ah già mi sei già sparato al tuo posto A A A A à Perfetto non assi molto peggio soprattutto sono io che utilizzo l'ora perché io con me questo tipo di videogio che faccio a cagare veloci che dico già da ora scatti mi piacciono ci sarà qualcosa telecamera non ce la facciamo nulla fiammiferi preservativi o no nient'acqua non te ne serve no però tu non bevi l'ora sei troppo figa per bere porca la puta pensavo di essere morto riparati dalla tempesta è una parola devo trovare la grotta che cacchio è quello figo però sento i lupi e non è un'arma gli lancio walkie talkie non c'è nessuno vengono tutti abbandonati figli di troia dobbiamo fare il fuoco qualcuno mi riceve per favore rispondete grandissimo solo uno ma cazzo è enorme quel fiammifero è più grande della tua mano così quasi con un razzo di segnalazione non è un fiammifero che bel caldo possiamo di sentirlo anch'io vediamo le ultime riprese se ci sono i porno i porno amatoriali Lara non guardare che forse è meglio potresti rimanere scandalizzata ed ecco la nostra ambiziosa archeologa Lara Croft nel suo habitat naturale è in cerca del regno perduto di Yamatai terra natale della leggendaria Emiko regina del sole e mia illustre antenata Sam piantala tesoro lo so cerco solo di sdrammatizzare siete tutti così nervosi cos'è che ti preoccupa sono vicino a una scoperta lo sento ma non so se mi daranno retta o se dovrebbero farlo Lara tu ne sai più di chiunque altro sul serio e non lo dico solo per confortarti io credo in te e anche Roth Roth crede in i porno ora facciamo una pausa ok ok e Sam grazie Sam Fisher non è sempre così musona basta dargli due schiaffi e vedi oddio mi accusi di non prendere sul serio questa spedizione Lara oltre ai fondi della famiglia di Sam ci sono anche i miei la spedizione interessa a tutti i fondi non dureranno in eterno Whitman ecco perché dovremmo puntare a est e non a ovest nessuno crede nessuno crede che Yamatai sia così tanto a est i libri dicono tutt'altro libri scritti da gente che non l'ha mai trovata ne ho già parlato con Roth non ha alcun senso seguire piste già battute Whitman io mi rifiuto di mettere la mia reputazione in gioco qui sono io il capo archeologo tu ti muovi solo se hai una troupe televisiva al seguito ho trent'anni di esperienza e due dottorati di cui uno in storia asiatica tu pensa alla barca Grimm nave dottor Whitman si chiama nave non serve un dottorato per sapere senti proseguendo a est entreremo direttamente nel triangolo del drago è quella la nostra meta Lara tesoro io ti seguirei ovunque ma in quel posto tira una brutta aria brutte tempeste il triangolo delle Bermuda sembra Disney World ci sto la leggenda vuole che la regina Emiko potesse scatenare tempeste spesso i miti reinterpretano verità storiche Yamatai potrebbe trovarsi proprio nel triangolo ecco questo è il triangolo del drago visto dal satellite non molto invitante almeno c'è acqua per navigare non ditemi che siete tutti Raiyes ha ragione i nostri fondi sono agli sgoccioli siamo di fronte a un bivio Lara ci sta offrendo nuove idee e un piano il capitano qui sono io e questa è la mia decisione faremo rotta per il triangolo del drago non posso crederci nessun porno piuttosto deludante come inizio vabbè ce li metteremo noi porno ok cerca del cibo troverò qualcosa da mangiare questa questa le cornacchie ci mangiamo le cornacchie guarda quanto bel cibo sta svolazzando però noi abbiamo un'arma oddio dove sono finito posso usare quell'acqua no il problema è arrivarci però è un'ottima idea qui sono delle frecce tre frecce tre frecce non so dove debbano essere mette tre frecce perché ehi saldi ok io premo shift perché penso che corra invece fa una sorta di scatto strano posso farcela dai che ce la puoi fare certo che ce la puoi fare la rettina preso mio mio oh è uno stronzo oh che schifo mi ricordo gli zappi ricordo gli zumbi di world the walking dead scolungo improvvisato ricarca gli insegnamenti di rotta tecnica e stile non contano nulla senza concentrazione concentrazione è questo il segreto per usare qualsiasi arma ok devo cercare il dino devo mangiare qualcosa hai un sacco di carne addosso mangia tipo un braccio ah sono altre frecce lì scusa ma se ti uccido l'uccellino ti va bene uguale oh sei un ingordo di merda guardate c'è l'uccellino no c'è no ho preso bastardo vorrei fare bastardo no no merda aspetta mi stronzo oh sei mio baby mi dispiace eh perdona anche a me eh perdona anche a me beh adesso dovresti avere abbastanza carne per quanto bene torniamo al campo hai preso tutto sicuro sai Lara spesso nemmeno la tecnologia può dirti dove ti trovi impara a leggere la terra e la volta celeste per ritrovare sempre la via di casa ah a parte ugualmente la freccia non la posso neanche recuperare che sfiga come domine un coniglietto eheheheh veni qui coniglietto ti posso prendere sto proprio qui sono dei ritardati questi dai dovrei torri indietro ma sinceramente fomo 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 ah cosa ha gli orgasmi all'ora dite decidere un altro giusto presfizio ah ok magari se ci serve altro cibo ne abbiamo no no facciamo solo punti esperienza stiamo diventando dei macellai là sopra che c'è se ci vuole cosa di bianco eh perdete prima per lui ah 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 no 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 bastardo scappato pochissimi punti esperienza vabbè dai fa nulla altre frecce là sotto mancato fa nulla da basta tornami indietro qualcuno di voi si ricorda dove si tornami indietro io non me lo ricordo affatto mi sto già perdendo sono appena arrivato sto già perdendo per iniziare il gioco mi sono già perso che vediamo eh forse verso qui si 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 era da questa wow ok no sta cosa sto bunker dovrebbe essere più figo Lara ma hai pensato di entrerci però mi pare che non ci siamo entrati ah si c'è apri non fa torniamo indietro va abbiamo carne di dino non so se dove se la sia messa perchè non vedo nessun zaino quindi facciamo finta di nulla usiamo l'accampamento ah investi ah ok possiamo potenziare la signorina ok ho preso ok oh cazzo ok scusate ok dai prendi cacchio mi frega la prendiamo poi che perire sta cosa no ma non ne ho più proprio ok non me ne frega niente ehm questa cosa cosa invece no nope siamo a posto capitano dell'eldurance siamo naufragati su un'isola nel triangolo del draft Lara sei vivo calma piccola calma stai bene che è successo ero sulla spiaggia poi mi sono ritrovata in una caverna c'era c'era un pazzo rotto e ho visto un cadavere oh cristo ora dove sei Lara stai bene è stato terribile è colpa mia è tutta colpa mia Lara ascoltami ho trasmesso un SOS prima di abbandonare l'eldurance speriamo che qualcuno lo riceva ho parlato con gli altri ci raduniamo qui da me ti prego vieni a prendermi ti prego vieni a prendermi devo restare qui puoi farcela Lara mi ricordi la scalata dello Snowden il segreto è rendersi conto che si può andare soltanto avanti sempre avanti sali in quota attraversando le antiche rovine e chiedi la radio accesa ok ok bene abbiamo una destinazione quindi ci andiamo la prossima volta raga quindi al prossimo capitolo ciao a tutti